Un saluto da Dr. Palmas, ti mostro un caso di denti fissi con sistema bocca bionica, una paziente con un sorriso trasformato, abbiamo non solo ridato il sorriso ma anche fatto ringiovanire la paziente. Nota qua come i denti che aveva prima erano storti, il piano clusale andava verso il basso, normalmente invece i denti devono avere i molari che vanno verso l'alto. La protesi che montava alla paziente una dentiera che si toglieva era completamente consumata nelle zone posteriori, questo che vedi è il palato privo di denti della paziente, erano rimaste alcune radici in basso sul quale agganciava poi una protesi scheletrata. Questo è il risultato, dopo la chirurgia la paziente monta già dei denti provvisori, bellissimi, questi sono gli impianti che sono stati inseriti nell'arcata inferiore li abbiamo dovuti angolare per evitare delle zone dove non c'era più osso, c'erano delle gravi infezioni. Questo è lo schema grafico di come sono stati posizionati gli impianti. Su di questi abbiamo poi avvitato l'arcata definitiva. Quello che vedi sulla sinistra è l'attac tridimensionale prima e sulla destra invece l'attac 3D con tutti gli impianti dentali inseriti. La paziente ora ha il supporto per reggere i denti masticatori e potersi nutrire finalmente in maniera corretta. Abbiamo fatto vedere alla paziente il risultato che avremmo potuto ottenere prima ancora di iniziare e abbiamo riportato poi quelle che erano le forme selezionate per risolvere questo caso con dei denti definitivi che sono stati riprodotti con i robot. Questi sono dei bellissimi denti opere d'arte, queste sono protesi d'autore che simulano dei denti reali in maniera iperrealistica. Io le definisco ad alta risoluzione. Non sono denti in plastica, in resina del commercio che appaiono finti ma sono dei denti che sembrano veri in quanto sono realizzati con materiali molto simili al smalto naturale che hanno delle proprietà ottiche che permettono di rifrangere la luce e dare questo aspetto imperialistico alla dentatura. Questa è la protesi vista da vicino e questo che ti mostro il prima e dopo. Uno splendido caso con linea superior con il nostro sistema bocca bionica che ha permesso di risimulare tutta la dentatura perduta in maniera fissa sopra gli impianti dentali partendo da una chirurgia pianificata con il risultato già in testa di dove saremmo voluti arrivare. Previsionato dalla paziente, accettato e riprodotto roboticamente.